La vacanza, ti piace la vacanza? Io faccio un pezzo sulla vacanza. La vacanza dipende dove vuoi andare. Normalmente fermo un amico mio, gli faccio, quando vai? C'è lui, sono stato in Sardegna. Agosto vado in Calabria. Dico, ti piace il mare? A me? No, a mia moglie gli piace. Perché devi andare sempre. È bellissimo. Sei sposato tu? Con lei? Perfetto. Quindi donne hanno un potere. Perché muori prima? Perché loro gradualmente se ti ammassa in un giorno va in galera. Però se la goccia c'è... Tu dici, ma io ho qualcosa di strano. Ti sta stordendo. Questo ci ride. Io lo dici per fortesia? Non sto scusa. Ti stordisce. Come ti stordisce? Lì c'è un esempio. 15 agosto, ecco, un po' sua spiace. 15 agosto, sole. E lei deve fare, come ti chiami? Claudio. Ti fa Claudio. Tu dice, morbide. Ma che è il giorno d'oggi? C'è Ferragosto. E parte con la botta. Che famo a Natale? Se ne lo so! C'è che fa a Natale? Uno d'ompernone vicino fa A Natale! Tutta la fila d'ompernone. A Natale! A Natale, guarda che... Ecco lì. Ecco lì. Settembre, ecco lì. Ecco lì. C'è famo? Che ne so? C'è famo? Che ne so? Io non manco ce l'ha pensato lui. Perché... Andiamo da tua madre? Lei dice, no eh. Lei fa, ma c'è tua sorella? Dice, buona quella. Perché il momento più bello per litigare è Natale. Perché la gente dice, eh, dice, litigare? Dove li devo parlare con tuo fratello? Quando? A Natale! Perché c'è? Ah, una raccomandazione a Natale. Lo dico sempre, ricordate, perché io quello che dico non è so battute. Sono pure memorie. Apro parentesi, ora arriviamo i miei vacanze. Natale, quante persone c'erano a cena a casa tua? Dieci. Possibile? Com'è il nome? Maria Assunta. Un nome tipicamente, simpaticamente. Perché dieci persone? Maria Assunta. Dieci. Stai zitta, sto a fare discorso. Dieci persone? Maria Assunta. Uno schiaccianoci solo. Mediamente ce ne vanno tre. Giusto? Perché che succede? Che chi lo pia, prende per primo, lo pia, lo prende, lo mette qui. L'altri nove, sa, devono scampare, meno peggio. Chi mette, brava, chi mette il cortello e partono scheggi e denunci da oftalmico. Quello che fa così, quello che fa così, quello o zio di 90 anni pensa ancora che ce n'è a 35, pia tu noci fa così, e rompe sì, con un metodo, quella roba è. Pia tu noci fa, solo che a 30 anni c'è una forza, a 90 c'è un'altra. Fa, la forza, ma mi hai capito, non va qui, va in giro, fa, fa massa come puzzano ste noci. a zio, forse ti sei cagato sotto, ma non so le noci. Ma mi spieghi una cosa, ma veramente, ho visto, uno in dieci, è assurdo, no? Un euro dal cinese, vabbè che vanno a rompere, il cinese, la noce non si tocca, ma questo è spezza. Massa. Cinesi, lasciatemi i perditi, i coltelli dei cinesi, il servizio, dodici coltelli, forchette, tre euro, tagli la carne, pum, e parta la lama, vissi. I cinesi per me so, X files. Mi devi spiegare, Andre, queste sono cuffiette, reggi Andre, che è qua. Mi devi spiegare, Andre, mi devi dire, dove cazzo la devi sentire, sta musica? A casa di un altro? Lascia, 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 a casa di un altro? A me mi è farito solo questo qui, il cesto, questo non fa più i detti. I cinesi sono forti. A Natale, l'ho chiesto a mamma, come si chiama mamma? Alba. Alba, mammazza, che bello, ecco, alba è bello, alba, pure stella è bello, però alba è bello. Mi spieghi una cosa, perché i cappotti, ora sto a spostarmi da, se mettono sul letto di tua madre, il letto di nonna, è pieno di cappotti, che poi, verso i quattro, dice, no, non va a dormire, e c'ho i cappotti, sull'letto, non va a dormire, ma non va a dormire, stavola vecchia. Poi, verso i tre, tutti imbriachi, tu cucino, se vediamo domani, se mette il cappotto, non mi entra, ma che mi sono ammagnato, non pensa che non è il suo, quel cappotto. Però è Natale, è bello, come una volta era bello, adesso è meno bello. Capito? le vacanze sono belle, però devi stare attento. Normalmente, una cosa che mi ratterizza dalla vacanza, lo sai qual è? Conosci persone, no? Conosci persone, e quando te ne stai andando via, la sera, prima di andare via, dici così, ma se li vediamo a Roma, no, ma non è una pizza a Roma, ne li vedi più per tutta la vita. non è una pizza a Roma, 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 non è una pizza a Roma,